Hola gente, io sono Lili e oggi siamo qui con un nuovo video a tema disegnini tatuaggini Nel video di oggi andiamo a preparare insieme un progetto per un tatuaggio Prepareremo insieme tutto quanto, vi farò vedere che cosa mi ha chiesto la cliente Le reference che ho trovato, come ho fatto il disegnino Come mi sono dimenticata poi di aggiungere un elemento importante del disegnino Quindi l'ho fatto in un secondo momento, quindi lo aggiungerò senza tutta l'inquadratura carina Che avevo fatto inizialmente perché ADHD è proprio come stile di vita Ma se ti va prima di iniziare iscriviti al canale e attiva il campanello Per non perderti i video che usciranno una volta ogni domenica Per ora siamo bravissimi raga, cioè sarà la terza domenica di fila Non andava così... è da penso quando andavo al liceo, quindi tutto molto bene Allora, iniziamo con... vediamo adesso se metterli qui o qui I messaggini della cliente, quindi dicevamo che la cliente mi ha scritto E mi ha scritto che voleva una candela Con... avete presente quelle candele vecchie? Adesso vi faccio vedere la reference perché a parole non mi so spiegare molto bene Quelle candele vecchie che hanno il portacandela con l'occhiello E poi sopra una candela a forma di teschio E niente, una candela a forma di teschio con il portacandela antico Questa è la reference che mi avevo mandato E abbiamo iniziato a fare un po' il lavoretto Quindi adesso ho fatto un timelapse di mentre faccio il disegno Che adesso tra un pochino vi metto e analizziamo insieme Poi vediamo se riesco a mettere la seconda parte del timelapse Che registrerò lo schermo perché purtroppo mi ero dimenticata e ho finito in studio Magari ci metto un bel piccolo voiceover sopra Così vi spiego un po' come e cosa faccio Perché con che strumenti, soprattutto che può essere utile Con che pennelli di Procreate Quali uso, come li uso, perché li uso Penso che questo possa essere un format carino Una cosa molto importante per me Se ti va Di dirmi sotto nei commenti se hai delle preferenze Se vorresti vedere altri video su Procreate Come si usa Oppure su come fare i progetti per i tatuaggini O disegni a random O dei tatuaggi di per sé Insomma, bene le 100 e 100 le bande Vi passiamo, cambiamo schermata E andiamo al disegnino Allora, questo è il mio iPad Postazione pronta Apriamo un nuovo foglio Foglio A4 Mi viene più facile disegnare con i fogli A4 Quando faccio i tatuaggi Perché almeno poi ho un'idea di che grandezza Vado poi a stampare il progetto Come prima cosa aggiungo tutte le reference Quelle che mi ha dato la cliente E tutte quelle che sono andate a cercarmi online Io ne ho cercato alcune delle candele Un paio di teschi E quindi pian piano le aggiungo tutte quante Ho anche velocizzato il video Di almeno due per Perché durava davvero tantissimo Ci saranno comunque dei tempi morti Mi sa Ma va bene lo stesso Spero di non annoiarti troppo Allora, una volta finito di mettere le reference Con la matita Che adesso ti dico anche qual è Perché non mi ricordo molto bene Ok La matita che uso È la matita Peppermint Che è semplicemente la prima Delle basi Di quelle che ti da Procreate Te le trovi in bozzetto La prima schiena Peppermint E inizio a tracciare Il mio disegno Faccio la base del candelabro Anche se non è perfetta Non importa tanto È solo una bozzettina Cerco di capire che forma dargli Se mi può piacere Se non mi può piacere Lo guardo un po' Lo riguardo Insomma Una bozza Così Come ti viene? D'amblè Spontanea Poi cambio colore Non per chissà cosa Ma per aiutarmi nel distacco delle bozze A capirle un po' meglio E faccio la candela Quindi tiro sul tronco della candela E la faccio un po' Di colate di cera Qua e là Mi piacciono un sacco le candelene Ne ho disegnate un centinaio Penso Se non di più Quindi metto un po' di cera Che cade a sinistra Un po' a destra E poi Proseguirò a fare il picciuolo Eccolo lì Un po' di fumo Il fumo classico Che faccio io Nei miei lavori È quello nero Che piazzo Praticamente ovunque Se non mi seguite su Instagram Forse non ce l'avete presente Ma io Piazzo queste nuvole di fumo E utilizzo la stessa forma Anche per quando faccio il fuoco Ormai è nel mio cuoricino Segno Segno Distintivo Poi cosa faccio Metto la simmetria Sto mettendo la simmetria? Sì Ok Metto la simmetria Perché faccio un nuovo livello E con la penna tecnica Che è Il pennello che utilizzo Di più in assoluto Su Procreate Vado a tracciare Penna tecnica La trovate Nella sezione Inchiostro Sempre Nei Pennelli base Di Procreate L'unica differenza Che ho fatto E di mettergli Un po' di streamline Che mi aiuta A fare delle linee Più precise Adesso qui Sarà un doppio tap Continuo Nel cancellare Linee sorte Perché devono Venire perfette Mi ricordo Quando facevo L'apprendista Che uno dei Consigli Best of È sempre stato Mi raccomando Lo stencil Deve essere perfetto Piuttosto Rifai lo stencil Milioni Milioni di volte Perché poi Una volta Che l'hai messo Lì Quello è Quindi Faccio delle prove Cerco di capire Come mi piace di più Questo cavolo di porta candele Non so se abbia Un nome specifico Se ce l'ha Per favore Fatemelo sapere E faccio un altro Livello Senza simmetria Per fare la candela Poi i livelli simmetria Li potete Attivare e disattivare Quindi Non sono fissi Per sempre Ed è una cosa Molto comoda Soprattutto se poi Dovete cancellare Delle cose Come in questo Momento Ok Poi riprendo Anche picciolo E i dettagli Del fumo La fiammella Sopra E aggiungo I miei classici pallini Questi Come il fumo Barra fiammelle Anche quelli Must have In ogni In ogni tatuaggio Se non ci sono Lo sento vuoto Disperso Qui stavo cercando Di capire Come fare L'occhiello E la penna Non stava collaborando Quindi L'ho rifatto Una decina di volte Stavo impazzendo Ma tutto bene Ciò che finisce bene Faccio poi Questa cosina Che mi ha insegnato Una mia amica Di controllare Destra-sinistra La destra-sinistra Perché deve essere perfetto Quindi sia a destra Che a sinistra Deve piacerti il progetto Quindi faccio Tutte le modifiche Che mi pare Necessario fare Guardandolo Nella direzione opposta E poi di nuovo Dall'altra Se non mi convince più Insomma Un destra-sinistra Continuo In loop Per sempre Ok Ho tagliato un po' di parti Perché sennò Qui non finiamo mai più Passiamo alle sfumature Faccio prima Le sfumature Col nero Quelle base Che io Personalmente Faccio poi Col tre linea Quindi uso la matitina Sempre peppermint Per farle E Col nero Classico Così vado un po' Come se usassi Una matita vera Non hanno un effetto Effettivamente molto morbido Ma Come Non so se l'ho detto Nell'intro Se lo dirò nell'altro Da qualche parte Però lo dico Non importa Lo ripetiamo Io quando faccio Le bozze per i tatuaggi Non utilizzo Una sfumatura morbidissima Cioè Nel senso Non sto lì A farlo preciso E bello Come Lo faccio magari In un'illustrazione digitale Perché È una bozza Per un tatuaggio Non Non ci lavoro sopra Come se fosse Poi Un'illustrazione È per far dare Un'idea al cliente Di quello che verrà Quindi Proprio così Veloce Un po' Alla buona Ma Dopo vi faccio vedere Anche poi Il risultato Col tatuaggio Quindi Adesso un po' di ombre qua Un po' di ombre là Destra e sinistra E facciamo un altro taglio Perché Sennò mi sa che Non finiamo più Ok Iniziamo con i colori Inizio dai grigi Che è il modo Che io utilizzo Al posto delle sfumature Inizio facendo Le campiture piatte Poi dopo Penserò Alle sfumature effettive Amo le campiture piatte Innamorata Persa Prima facevo solo quelle Adesso Ultimamente Sto iniziando A prendere un po' più Di confidenza Con i magnum E aggiungere queste Sfumature vellutate Queste campiture piatte Le faccio sempre Con penna tecnica Mentre queste sfumature Così Un po' Bozzi bozzi Che sto facendo adesso Le faccio con un pennello Che si chiama Mercury Che ho scoperto da poco Grazie a un collega Ma che mi piace Da morire Sempre nella sezione Inchiostro Sempre un pennello Di Procreate E Non vengono pulite Ma mi piacciono Mi piacciono Sembra di disegnare Un po' con i pastelli Quindi Lo approvo Mi ispira Mettiamola così Quindi Vado avanti Con il mio grigio Ho fatto il grigio scuro Adesso Sto rifinendo Con il grigio chiaro E Andiamo avanti Verso l'infinito E oltre Una volta finiti i grigi Passo gli altri colori In questo caso Abbiamo optato Per dei blu E degli azzurri Quindi Faccio tutto Il mio fuocere Il mio fuoco fatuo Decido di fare Una cosa un po' diversa Dal solito Almeno ci provo Voglio provare A dare quell'effetto Tipo luminoso Di luce Quindi aggiungo Del bianco Intorno al picciolo Della candela Il bianco È un colore che io ho sempre usato Pochissimo Nei tatuaggi Sempre evitato Come la peste Adesso insieme Alle sfumature Ho deciso di cercare Di introdurlo Un pochettino Per fare Questi effettini Di luci ombre Che molto mi piacciono Pazzeschi Rifinisco un po' Perché coloro Sempre ad minchiamo E Ci sentiamo Al prossimo taglio Perché non so Cosa succederà dopo Ok Ultimi dettaglini Sempre di grigio Sulla candela Un po' Di ombre qua Un po' Di ombre là E Che facciamo adesso? Ah Ero lì Indecisa Se aggiungere altri grigi Un po' Di pallini nostri Che ci piacciono tanto E poi Io Pensavo Di aver finito No? Ce ne ero Ne ero Abbastanza convinta Se non fosse Per il fatto Ah Qui stavo aggiungendo Poi i bianchi Che dicevamo Prima Se non fosse Per il fatto Che la richiesta Aveva un teschio Non una candela Una candela teschio Non so Il mio cervello Ha completamente Eliminato Metà delle informazioni Nonostante ci fossero Tutte le reference E quindi Io poi qui Finisco il mio video Faccio ciao ciao Metto un cuoricino E invece no Guarda Trulla trulla Cuoricino Spengo pure l'ipad Voilà Disastro Disastro Quindi noi adesso Proviamo a fare Ciò Quindi Insomma È successo Questo casino Questo è un timelapse Molto veloce Di quello che abbiamo visto Fino ad adesso Ho poi Aggiunto il teschietto Ve lo narro Molto velocemente Perché il video È cortissimo Dura 18 secondi Ho aggiunto il teschietto Prima pensavo frontale E poi ho recuperato Un mio vecchio disegno E l'abbiamo messo Di tre quarti Molto più bello Ho aggiunto il picciuolo Il fumo La colorazione Non l'ho fatta Perché tanto Di reference Avevamo quello Sopra della candela Comunque Dieci volte più figo Meno male Che ci siamo dati Una svegliata Questo è Ok Ok quindi Questo era Il disegnino Finito Dopo tutto Il procedimento Che abbiamo fatto Vi lascio Magari qui A fianco Da qualche parte Anche la foto Del tatuaggio Poi finito Perché ovviamente Poi c'è sempre Una differenza Tra tatuaggio E disegno E disegno Su Procreate Su Procreate Quando faccio Le borse Dei tatuaggi Spesso Volentieri Non le sfumo Così bene Come quando Magari faccio Delle illustrazioni Digitali Mentre poi Ovviamente Sulla pelle Viene tutto Lavorato Molto bene Quindi per farvi Vedere Come si passa Poi Da ciò Che faccio Vedere Al cliente Al risultato Finale Se il video Ti è piaciuto Lascia un mi piacino Un commentino Condividi il video Con i tuoi amici Non saprei che altro Dire Quindi noi Ci vediamo Presto prestissimo Con un nuovo video Ciao